Tu come mai sei così bardato oggi? Oggi sono qui perché sono intenzionato a presentare la miglior versione di me a livello di design Ok Di outfits Sembri un po' uscito da un album di Easy, di Kanye West Allora ragazzi bentornati in un nuovo episodio dei Ciclest Sigla! Oggi siamo in un episodio un po' particolare Come potete vedere io e Davide non abbiamo le cuffie e gli ospiti sono in tre Quindi direi che vi potete presentare tutti e tre E partiamo da te Riccardo Sono Riccardo, studio design della comunicazione al Politecnico di Torino Io sono Alessia e sono al terzo anno all'OIAD di Torino che studio interior design Ok Ciao a tutti, io sono Floran e studio all'OIAD design della comunicazione digitale, un po' più specifico Come potete aver intuito molto semplicemente tutti e tre fanno design Oggi tratteremo un argomento molto discusso in realtà nel mondo della grafica e nel mondo dell'estetica Che è appunto la materia di design E abbiamo deciso di portare tutti voi tre che insomma fate design ma su aspetti poi abbastanza diversi tra loro Per quanto poi si incontrino tutti quanti insieme Quindi la prima domanda che vi faccio, seguiamo questo ordine così anche più semplice per voi ricordarvelo È come mai avete scelto design? Perché io fin da piccolo ce l'avevo su col fatto di progettare, creare cose Poi da piccolissimo volevo fare i grattacieli, poi volevo fare i robot E quindi mi avevano detto sono gli ingegneri che progettano Quindi io ero convintissimo, vado allo scientifico, poi farò ingegneria, divento ingegnere E a me piaceva il disegno, quindi allo scientifico mi sentivo un po' Cioè non ero sicuro fosse la scelta giusta perché comunque tutta quella parte creativa si andava a perdere Fin quando mio professore, Mauro Comoglio, fantastico professore Saluto Mi dice che esiste design e comunicazione al Politecnico, cosa che io non sapevo E allora comincio a informarmi e dico cazzo è questo che unisce tutti i puntini Ok Alessia? Io sono partita con l'istituto tecnico grafico Inizialmente io volevo fare illustrazione Mi è sempre piaciuto disegnare Quando nel post-covid ho scoperto di in realtà amare lo spazio come ambiente Hai deciso insomma di fare questa cosa qua Dalla creatività sono passata alla progettazione vera e propria E continuo tuttora a innamorarmene Ok Io ho una storia un po' più lunga che cerco ovviamente di accorciare un po' Accorcia, accorcia dai Accorcia bene Ti bruciate sul tempo vai Io ho studiato il liceo artistico in dirizzo architettura Quindi sempre creativo però non tanto incentrato sulla comunicazione Soprattutto comunicazione digitale Infatti inizialmente io volevo fare l'architetto Soltanto che poi il test non l'ho passato E quindi ho avuto un anno dove sono andato a studiare un po' di esami Per portarmi a parte in architettura Di anche di lavorare in uno studio vero di architettura Solo che dopo un po' ho capito che non faceva più per me E quindi poi guardando varie università, vari corsi In quel periodo avevo scoperto un po' la UX, UI Questo Che cosa sono? Praticamente è lo studio delle interfacce digitali Quindi la creazione di applicazioni, siti web Tutto il flusso di questi strumenti Che adesso siamo praticamente sempre Fatto sta che alla fine ho scelto quello che mi piaceva principalmente Che era appunto questa cosa di UX più la parte di comunicazione Che nello IAD al fine si faceva Posso chiedervi un attimo Se qualcuno volesse intraprendere il vostro percorso Esattamente chi secondo voi sarebbe molto più interessato A seguire la vostra linea di, diciamo, design Piuttosto che quella del vostro compagno a fianco A chi consiglieresti il tuo corso, diciamo? Secondo me di base non è che servono troppe predisposizioni Per il design sono tutte facoltà che funzionano un po' da rampa di lancio Cioè non è che è una lotta fino alla laurea E da lì hai il tuo pezzo di carta Ok, qua il pezzo di carta serve ben poco Deve essere uno scivolo che ti porta a imparare un sacco di cose A avere voglia di fare eccetera Quindi l'unica vera caratteristica è essere veramente appassionati di quello che fai Per comunicazione direi Cioè comunicazione poi si articola a sua volta in tantissimi tipi Il Politecnico rimane abbastanza vago nei suoi indirizzi Quindi comunicazione ti dà delle basi un po' su tutto Ci sono dei corsi che approfondiscono temi interessanti Però senza mai andare nello specifico Ovvero tipo design editoriale eccetera Quindi se ti piace disegnare Allora l'illustrazione è un fantastico strumento per la grafica Però se non sai per niente disegnare Comunque te la cavi in altre migliaia di modi Quindi io per esempio ho scelto comunicazione Nonostante mi interessasse molto anche il prodotto Perché comunicazione è semplicemente la cosa che mi gasava di più Mi faceva emozionare di più E anche perché a livello di progetti personali È la cosa più facile da portare avanti Cioè se io voglio progettare un oggetto per conto mio Puoi creare effettivamente quell'oggetto A livello di design non artigianato Quindi non può essere una copia sola Ma pensarlo per una produzione di massa Cioè ci vuole una quantità di soldi incredibile Devi contattare aziende Invece a livello di design della comunicazione Che è una cosa che può essere anche su digitale Può essere una produzione editoriale Però comunque si tratta di cose molto più fattibili Sono d'accordo sull'essere appassionati Ma facevo parte di quelle persone Che ha avuto un po' paura Di quello che aveva scelto Perché è difficile Perché ti può piacere tantissimo Ma sei molto insicuro Non sai se effettivamente è stata la scelta giusta Io il mio corso lo consiglio A tutte quelle persone Che hanno voglia di imparare E di sporcarsi le mani Perché l'ho trovato un corso molto pratico E io ad esempio Non mi piace per niente studiare Ahimè le materie teoriche ci sono Ma Meno rispetto ad altre facoltà E quello mi ha aiutato davvero davvero tanto E non mi ha mai stancato Nel senso che sono sempre appassionata Stancante E tanto stancante Però una cosa che voglio dire A chi magari pensa di intraprendere Un percorso come il mio È quello di non aver paura Perché si parte tutti dallo stesso livello Quindi Se non si sa disegnare Si impara a disegnare E poi soprattutto Al giorno d'oggi ci sono tantissimi strumenti Di modellazione Che è modellazione 2D Modellazione 3D Se veramente piace disegnare Allora sì Puoi disegnare anche a mano Quindi secondo me Potrebbe essere adatto a chi piace Cioè se sei interessato E però non aver paura Di non farcela Perché Se sei veramente motivato O comunque Se hai un piccolo Anche piccolino Obiettivo L'università ti aiuta Ti aiuta tanto a raggiungerlo Che poi questo è un gran consiglio in realtà Perché in quasi tutte Le materie In cui poi c'è un risvolto pratico Dove devi come hai detto Tu mettere le mani in pasta Molto spesso la gente Preferisce Neanche affrontare La minima idea Di dire Vado E ci provo Perché pensa magari Di non essere all'altezza O di non essere così bravo Quanto invece le persone Che ne so Vedi sui social Fare creazioni incredibili O realizzare cose incredibili Quindi Assolutamente Poi ad esempio Nella mia classe Ci sono tantissime persone Che vengono dal linguistico Io vengo dal grafico Quindi magari Il pacchetto Adobe Riesco a utilizzarlo meglio Di altri Ma ci sono Persone che magari Appunto Hanno fatto il linguistico Che lo sanno Usare Anche meglio di me Perché appunto Si parte proprio da zero E questa è una cosa Che mi sono ripetuta tanto Il primo anno Per appunto Non cadere Nell'insicurezza Nel senso Adesso Nonostante Il percorso precedente Siamo tutti Allo stesso livello Poi ovviamente C'erano persone Che avevano fatto Magari architettura Al liceo O un liceo artistico Quindi erano Bravissime a disegnare Però io Magari eccellevo In altre cose Quindi Secondo me Bisogna Bisogna buttarsi E lo consiglio Veramente A chi piace E Non bisogna Aver paura Allora Io riprendo Un paio di concetti Che condivido Particolarmente Il primo è sicuramente Che magari Uno ha la credenza Che deve Saper disegnare Per fare design Magari sicuramente Per un design Dall'architettura Ancora di più Per un design Dalla comunicazione Comunque È una skill Ovviamente In più Se ce l'hai Ma non è sicuramente Fondamentale Io vengo dall'artistico Indirizzo architettura E Ovviamente Nei primi Semestri Sono leggermente Più avvantaggiato Ma semplicemente Perché Ho già studiato Alcuni programmi Grafica Magari L'ho già fatta E varie cose così Io consiglio Allo IAD A tutti quelli A cui piace Semplicemente Anche utilizzare La creatività E che spera Poi anche Di sfruttare La propria creatività Nel mondo del lavoro Perché alla fine In modo della comunicazione Ci sono tantissimi Sbocchi Soprattutto Nella comunicazione digitale Che faccio io Che è leggermente diverso Un po' più specifico Rispetto a quello Del Politecnico Infatti anche Le modalità Di insegnamento Sono leggermente Diverse Quindi Sicuramente È una scuola Per chi piace Usare la propria creatività Si fanno tanti progetti Sia singoli Che di gruppo E quindi Una persona Che piace Mettersi in gioco Ok Io volevo solamente Chiedervi una cosa Tutti e tre Giusto per spiegare Anche chi ci ascolta Più o meno Le differenze Più o meno precise Delle scuole Che poi fate voi Se doveste Con poche parole Descrivere Più o meno La scuola Che fate voi Ok Quindi definendo Poi quelle che sono Le differenze Tra di voi Quali sarebbero? Il Politecnico Innanzitutto Per design Ha un indirizzo Ti laurei in design E comunicazione E basta Un anno e mezzo Il primo Che è uguale per tutti Dal secondo semestre Del secondo anno Si comincia a dividere In design Del prodotto E della comunicazione E poi l'ultimo semestre Un laboratorio A scelta Fra sei che ci sono E se hai fatto Prodotto e comunicazione Puoi andare comunque In uno dei sei Quello che preferisci Quindi In linea di base Il Poli Ti indirizza meno Al mondo del lavoro Nel senso che Sei meno impacchettato E finito Per fare Quello che Magari speravi di fare Non sei subito lanciato In un'azienda Eccetera Il vantaggio del Poli È che ha L'approccio Quello Progettuale Quindi Ti formano come Designer La cui principale Caratteristica A prescindere Cosa faccio È avere Il metodo progettuale Che poi si può Può andare a finire In qualsiasi tipo di ambito Il Poli Ti indirizza Però senza Darti i mezzi precisi Per esempio Non c'è un corso Di illustrator Un corso di Photoshop corso Di InDesign Sono cose che Ti fanno usare Ti danno Di diritti Ma te le devi imparare Da solo Ok già Quindi forse Ascoltando quello Che avete detto voi Dove comunque Invece impari Proprio ad approcciarti Ai software È già un pochino Diverso il tuo Diciamo che Ryan e Blender Sono gli unici software Che vengono insegnati Proprio dall'inizio Alla fine Perché sono 3D E sono molto complessi Quindi quelli Te li insegnano Gli altri È più facile Impararseli da soli Non che siano semplici Però Il Poli Non prevede Uno del genere Al Poli Ci sono molti Corsi Che sembrano Anche abbastanza Scollegati Che però Alla fine Tornano utili Per esempio L'inserimento Di corsi Come quello Di antropologia Di ergonomia cognitiva Al secondo anno Di teoria dei linguaggi Sono tutte cose Che ho trovato Molto utili Non ti professionalizzano Infatti Diciamo Fra i miei compagni C'è gente Che si lamentava Si chiedeva dell'utilità Anch'io mi sono posto Questa domanda a volte Però in fin dei conti Sono strumenti utili A livello Della formazione Della figura Del designer A tutto tondo Che poi Secondo il Poli Si specializza Per conto suo Più è là Diciamo Ok Io vi dico Quello che mi ha convinto A scegliere IED E innanzitutto La praticità Quello che ho detto prima Non mi è mai piaciuto Tanto studiare E per quanto Si studia molto Non è che Adesso non voglio far passare L'idea che Non si fa niente Assolutamente Però ci sono molte Meno materie teoriche E molte materie Progettuali E soprattutto Una cosa che Mi piace tantissimo È il fatto che I professori Siano Dei professionisti Prima di essere professori Sono lavoratori Del settore Quindi Loro portano in campo Quello che Vedono E fanno Tutti i giorni E questo Secondo me È fantastico Perché Ti fa capire Esattamente Quello che Andrai a fare Ti sbattono in faccia La realtà E soprattutto Se un professore bravo Ti fa amare Il tuo lavoro Perché è anche il suo Certo Anche noi abbiamo Delle materie Che non sono solo Progettuali Materie teoriche Come storia dell'arte Contemporanea Tantissima storia Dell'arte Sociologia Antropologia Storia dell'architettura Ad esempio Sono materie più teoriche Però anche lì Cercano di Fartela apprendere Anche Con lavori di gruppo E Un'altra cosa È il fatto di Lavorare tanto In gruppo E Il fatto di essere Seguiti Anche singolarmente Perché Siamo classi piccole Io in classe Sono con altre 17-18 persone Quindi siamo 18-19 E Quindi Il professore Può fare revisione Uno a uno Progetto per progetto Certo Quindi sei Molto più seguito Quindi è anche Molto interessante Quello che dici tu Ovvero Il fatto che Lavoriate in gruppo Che probabilmente Poi fate anche voi Per certi tipi di progetto Anche perché poi Il lavoro del grafico Quasi mai è destinato A essere in solitario No Magari hai chi ti revisiona O anche solo Un secondo grafico Che ti dà una mano Un progetto In comune Ed è effettivamente Una skill Che nelle scuole Manca tanto Soprattutto nelle superiori Di far lavorare Le persone in coppia O in gruppo Molte volte Magari anche Per la materia Perché che ne so Fai studi matematica O studi delle cose Dove non hai Poi non è sempre detto Ma non hai strettamente Bisogno di avere un gruppo E quindi di conseguenza Sì 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 Una cosa che volevo aggiungere È quella che In teoria Speriamo Questa università Ti prepari proprio Al lavoro Tant'è che A fine degli studi Quindi In teoria A luglio Ci sono i career service E i career days Sono giornate Nelle quali Vengono le aziende In università E tu porti Il tuo curriculum Il tuo portfolio Tra l'altro Il portfolio E curriculum Che Noi abbiamo Workshop Che ce lo fanno realizzare Quindi Anche lì Siamo seguiti Da questo punto di vista Portiamo Tutti I nostri lavori Alle aziende E le aziende Poi se piacciamo Ci possono richiamare Quindi Questa è una grande opportunità Perché direttamente L'università Che ti porta Alle aziende È un gran vantaggio Sicuramente Esatto Non da sottovolto Allora Ci sono Con lo IAD Ci sono molte cose in comune Oltre al nome Che più o meno Praticamente lo si Cioè possiamo dirlo Ma assolutamente Qualche vocale E poi siamo allo IUD Questa è una battuta pessima Allora sicuramente La prima differenza Clamorosa con il Poli È che Come anche allo IAD Che poi Cioè Ogni volta che dico Dove studio Dico E io vado allo IAD Ma non allo IAD Cioè è diverso Quindi qua stai ritenendo Il fatto che L'OIAD Sia più famoso Dello IAD Sì È vero Per la mia esperienza C'è più gente Che conosce l'OIAD Rispetto allo IAD Secondo voi Perché Non saprei Però effettivamente Se mi chiedono Perché hai scelto l'OIAD Al posto dell'OIAD Perché ho conosciuto Prima l'OIAD Dello IAD Nel senso Poi oltre la posizione Che a me veniva più comodo Per il resto Che ricordiamo È solamente una questione Di notorietà Non di qualità Di studi Assolutamente Certo Che poi in realtà Avevo guardato anche Lo IAD Però Non l'avevo scelto Per due principali ragioni Vabbè il primo Che costa leggermente di più Poi adesso non so Se è diverso È cambiato Comunque è famoso Per avere un costo Di un certo tipo Anche proprio per la cosa Che hai detto tu Della comunicazione Dara studenti e aziende Forse proprio perché Ti permette Di avere uno stretto Contatto con le aziende La scuola magari Costa un po' di più Oltre a questo C'è il fatto che Voi avete dei professionisti Del settore Che vengono Per insegnarvi Delle materie Molto specifiche Non come Una didattica Te le insegna Ma come un professionista Le affronta Quindi penso Che anche i consigli Che vi danno Sono Oltre ad essere pratici Anche molto filtrati Da diciamo Le conoscenze Dei vostri Professionisti Assolutamente Sì 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 Poi molti professori Ci portano proprio Loro progetti Ci mostrano Il loro studio Nel senso di Appunto Progetti che hanno realizzato Sono progetti Molto famosi Perché abbiamo Professori che collaborano Con la Dionni E quindi Pago anche per questo Ma tipo Nomi famosi Nomi importanti Adesso Ho un corso Di design 3 E i professori Hanno lavorato E lavorano Con Cannavacciolo Ah E cosa fanno? Hanno realizzato Il ristorante Sul lago di Zeo Wow Tra l'altro Tutti i progetti Di Cannavacciolo Si chiamano L'acqua Non l'acqua L'acqua Se vi interessa E come fa A differenziarli? L'acqua 1 L'acqua 2 Boh Oh Problemi di Cannavacciolo No no Comunque Dicevi Flo Volevo aggiungere Che anche all'OIAD I professori Sono come all'OIAD Dei veri professionisti Infatti è clamoroso Come magari Delle lezioni Tipo di Dove studiamo Magari degli spot Delle cose così Ci fanno vedere Dei proprio Dei casi studi Che hanno fatto Ad esempio Questo semestre Abbiamo questo professore Che Insieme al direttore Capo supremo Dell'OIAD Lavorano Come creativi Per Intesa San Paolo Quindi ci fanno vedere Tutto il processo creativo Ed è una cosa Secondo me clamorosa Effettivamente Sembra più Andare a bottega Che andare a lezione Cioè Andare a imparare Un mestiere Piuttosto che Andare a imparare Una materia Infatti a proposito Volevo chiedervi Le classi Da quante persone sono Cioè sono numerose O probabilmente Sono piccole Come mi dicevi tu Era una cosa Che volevo appunto dire Le classi Rispetto al Poli Sono molto più Contenute Ristrette Noi siamo una ventina 18-19 Mentre al Poli Se mi confermi Ricchi Sono a 70-80 Al Poli Varia Perché al primo anno Sono divisi Tutti quanti insieme In quattro filiere Poi diventa diviso Fra prodotto e comunicazione Tutti insieme Fra di loro Diciamo che Da noi la differenza Che si sente Anche noi abbiamo Professionisti Come professori Quasi tutti Sono professori esterni Più ovviamente Quelle materie teoriche Tipo antropologia Ci sono professori di antropologia E anche noi facciamo Una gran parte Di esami Di progetto La teoria È sicuramente meno Si sente molto La differenza Secondo me Rispetto agli ed e gli ed Perché essendo in tanti C'è la revisione Sempre al gruppo E meno al singolo E noi tutti i progetti Che facciamo Dall'inizio alla fine Tranne qualche esercitazione Tutti i progetti D'esame Sono in gruppo E l'altra cosa È che Il fatto che siano Professionisti Magari si nota meno Perché Avendo corsi Molto meno specifici Ma più di concetti Generali Di solito Magari tu hai Un professionista Che è anche Uno studio Molto forte Torino Che ci fa vedere I suoi progetti Ma poi ci insegna A usare Rhino Non è che ci insegna A fare quei progetti Col passare del tempo Questa cosa Diventa più figa L'anno scorso Abbiamo avuto come professore Uno che Ha uno studio Quattorino Fa mille cose E ci ha fatto fare Il progetto Del rebranding Del dipartimento Che poi è stato preso E affinato Dal suo studio Uno dei nostri progetti Che poi è diventato Effettivamente Il nuovo brand Del dipartimento Quindi poi Qualcosa del genere Succede anche da noi Ovviamente Non è così una costante Come gli e dei gatti Certo anche perché Come hai detto tu È proprio una scuola diversa Cioè si basa su delle cose Molto diverse Rispetto alle loro Che sono molto più Professionalizzanti Ce la posso fare Del tuo Dove magari c'è più Uno studio teorico Anche di certe cose Sì poi nel senso Anche noi facciamo progetti Diciamo finali Certo Sul professionale Però Il nostro corso Per esempio Si chiama Communication Design E di anno in anno Nel nostro caso Era fare un rebranding L'anno prima Era fare una campagna Di comunicazione Per Torino Loro invece Credo che abbiano più Un corso di branding E corso Per le campagne Di comunicazione Per fare un esempio Sì Quindi da noi L'output è Il rebranding Perché così ci insegnano I principi E non direttamente Rebranding Sì esatto Infatti noi abbiamo Tipo dei corsi Che parlavi appunto Di comunicazione Noi abbiamo Tipo un corso L'anno scorso Di art direction Di copywriting Quindi molto specifici Che appunto Dividono magari Un processo creativo Poi li fai tutti Man mano Tipo Avremo anche marketing Questo semestre Che appunto Stiamo studiando E quindi Sì L'OIAD è un po' più specifico Come insegnamento E soprattutto L'OIAD c'è anche La presenza obbligatoria Che Penso anche all'OIAD Sì sì Anche all'OIAD Allora abbiamo visto Un attimo Il vostro percorso Di studi E avete elencato Insomma le differenze Comunque sono emerse Le differenze Quindi non un Questo è meglio Questo è peggio E un Questo è diverso E anche questo Una cosa che volevo chiedervi Vi siete mai interrogati Sul cosa fare Finito il vostro percorso Di studi Allora io ero Dell'idea di Non fare magistrale E vedere cosa capita Fare i tirocini Perché soprattutto Per comunicazione Al poli E alla triennale Può bastare Poi è molto importante Che ognuno Si mette in gioco da sé Tipo durante la triennale Il discorso che il poli Non ti prende così per mano Verso una professione Diciamo tipo graphic designer Di quel tipo Va un po' compensato Secondo me Facendo cose per conto tuo Perché Cioè appunto Bisogna vedere l'università Come questa rampa di lancio E quindi approfitti Di quello che ti dicono Per continuare a coltivare Soprattutto se all'università Nessuno ti rompe il cazzo Sperimenti E fai cose Che magari quando lavori Non riesci più a fare Quindi Hai modo di Specificizzarti un po' da solo Però per conto tuo Dopo la triennale Non è necessario fare la magistrale Soprattutto perché al poli La magistrale che c'è Design sistemico Che anche lì Rimane sul generale Ovvero loro dicono Va bene sia per comunicazione Che per prodotto Perché semplicemente Si va a studiare la complessità Dei sistemi Della progettazione Ma senza ancora Andare nello specifico A me onestamente Mi interessava troppo Quindi pensavo di non farla Poi ho scoperto Che all'Isia d'Urbino C'è Editoria Che è la cosa che mi interessa di più C'è una magistrale fighissima Quindi vedrò Se mi prendono lì Se no Vedo che succede Ok Tra l'altro hai parlato Di una cosa molto interessante Che ripeschiamo dopo Che sono i progetti personali Perché è una bella Un bello spunto Io in realtà Pensavo di fermarmi qui Con gli studi Per ora Perché appunto Usciamo Che Come dicono Ci ripetono sempre I nostri professori Saremo dei professionisti E Per quanto io professionista Non mi senta E questa parola Fa abbastanza paura Però Non mi sento Neanche di dire Mi piace Nello specifico Quella cosa lì Ad esempio Per Interior design Quando Dico che faccio Interior design Si pensa solo Alle case In realtà No Perché c'è L'ambito domestico C'è l'ambito museale C'è Appunto Ci sono le mostre E Ci sono i ristoranti Ci sono I negozi Quindi tutto L'ambito commerciale Io non lo so Che cosa mi piace adesso Perché Questi tre anni Abbiamo sperimentato Di tutto Ambito domestico Ambito commerciale Lo stiamo sperimentando Ambito museale L'abbiamo anche visto Però Non mi sento Di scegliere Adesso In questo momento Quindi mi piacerebbe Fare Un po' di Un po' di pratica Andare sul lavoro Vedere effettivamente Com'è Se mi piace E poi Se c'è qualcosa Che effettivamente Richiede magari Un master Che sia Otto mesi Un anno Farlo in contemporanea Al lavoro Però Per ora Mi lascio Spazio al lavoro Anche perché Basta studiare Basta E diciamolo Che la scuola Non serve No Scherzo Scherzo Sappiamo a chi Stiamo parlando No 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 Serve no L'occhio È il podcast degli indecisi Certo È il primo che effettivamente Lo sa Incredibile Alleluia Come è scritto sul band Avvocato È stato toccato Quel Poi Ho preso La peggior sedia Che esista È da mezz'ora Che lui Allora Dovete capire Che purtroppo Essendo in tanti In questa puntata Abbiamo cercato di creare Una disposizione Che potesse Essere Il più Giusta Possibile C'è Davide Che è seduto Su una sedia Infernale Ma è la peggior sedia Che posso mai Ma poi da dove è uscita Non l'ho mai vista L'hanno messo solo Per questo episodio qua Ogni singolo Micro movimento Che faccio C'è la mia spina dorsale Che dice Per favore aiutami Io mi muovo La sedia ovviamente grida Marco mi punisce Corporalmente Sì perché voi Non vedete Ma qui dietro Tipo un frustino elettrico Con cui lo sto stimolando Se tocchi ancora una volta Il microfono Sei finito Raccontaci ancora Cosa vorresti fare Finito il tuo percorso E poi dopo iniziamo Un'altra domandina Io sono al secondo anno Quindi è ancora un'idea In evoluzione Però Una cosa di cui sono Abbastanza certo È di non voler fare Una magistrale Mi piacerebbe subito Magari entrare Nel mondo del lavoro Nel mentre Formarmi Con corsi Magari dei master E ce ne sono già Alcuni che ho visto Che sono a me Molto interessanti Il problema principale Per me in questo momento È specializzarmi Qualcosa di Di preciso Perché ci sono Vari aspetti Che mi piacciono Che sia L'illustrazione UX UI design E anche altre cose Quindi Per adesso Io questo anno E anche il terzo Prendo per capire Anche bene Qual è il mestiere Che mi piacerebbe Fare più nello specifico Poi Sono tutte cose Che mi piacciono Quindi è ancora Una cosa Indivinire Però Sicuramente L'obiettivo è Entrare subito Nel mondo del lavoro E come Nell'OIAD Poi sembrava che L'OIAD sia Una brutta copia Dello IAD E diciamolo Un po' di credito Anche all'OIAD Ciao IAD No vabbè E niente Comunque Anche da noi Alla fine dei tre anni C'è il career days Dove Le vere aziende Con tutto il personale Vengono E fai il colloquio Con loro Quindi poi Cioè ti indirizzano Proprio All'interno Del mondo del lavoro Un po' Forza calci in culo Non lo so Se lo scopriremo Però è interessante Perché alla fine Avete detto Più o meno Tre cose Leggermente diverse Ma hanno poi Dei punti in comune Almeno per Quello che volete fare voi Più o meno Tutti quanti Anche se forse Voi un po' più sul Voglio praticizzare Quello che ho imparato Quindi mi butto subito Nel mondo del lavoro Lui ha detto Forse Non lo so Però ci sono Delle magistrali carine Poi comunque C'è anche da ricordare L'avete detto anche voi prima Che le vostre Non sono proprio Università Giusto Cioè Quello che prendete È proprio una laurea A tutti gli effetti O è più Un diploma Qualcosa di Allora Nel mio caso Non si chiama laurea E attenzione A dirlo Che ci bacchettano Ma è un diploma accademico Di primo livello Che in sostanza Vale come una laurea Infatti io posso accedere A magistrali Master Tranquillamente Anche In università pubblica Perché Ovviamente Università privata Non l'abbiamo detto Però Ricordiamolo Che comunque Per entrare all'OIAD Me lo insegni tu dottore Che fai l'OIAD Si sa Si sa Chissà sa Chissà sa Chissà sa Invece la tua è molto più Un'università La mia è una laurea Una laurea classica Ufficiale Cioè Metaforicamente Cioè Non devi vederla come Ho il pezzo di carta Adesso sono a posto Perché Secondo me serve a poco Sia la laurea Che il voto È risaputo Che contano i lavori Conta il portfolio Poi secondo me La laurea può essere Qualche cosa in più Due persone Che fanno lavori Ugualmente fighi Uno si è laureato Al poli Magari ha quelle competenze Che mi servono Magari scelgo lui Però alla fine Non è che serve La laurea Serve quello che Ho imparato nel percorso Come la magistrale La voglio fare Perché Mi sono innamorato Di quella magistrale lì In un posto figo Un argomento figo Tutto sull'editoria E allora la faccio Prima di sapere Si stesse Quella specifica Che mi dava Quelle competenze lì Non l'avrei fatta Certo E la tua è molto La tua è molto più invece Come quella di Sì esatto È praticamente uguale Sì 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 Abbiamo Questo laurea Allora non so esattamente Se è al termine Scontro Attenzione Diploma Vai 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 Davide apre I guantoni A proposito Se li metti Che vuole tirarti un pugno Davvero Ma no Che fai Ma sei impazzito Ma io lo metto Questo è matto Ok questo è matto No praticamente Sì è una laurea Che hai riconosciuto Dal miur come Tutte le lauree Del mondo Quindi Lo gli è un po' scammed Scherzo No si scherza Si scherza Si scherza Parliamo però Di progetti personali Come avevamo accennato Prima con Flo E anche con Ricky Quali sono i progetti Extra universitari Che seguite Allora Sono invischiato Un po' tante cose Per cui a volte Mi pento di tutto Con chi? Progetti personali Tendenzialmente positivi Mi pento Perché a volte Non c'è tempo Poi l'università A volte sembra Più tranquilla Poi impazzisce Però Tendenzialmente Ci sono progetti personali Insieme ad associazioni Per esempio Il Print Club Torino Sono nella Young Board Quindi un gruppo Di altri studenti E facciamo una serie Di progetti Ne proponiamo altri Eccetera E poi ci sono quelli Che sono propriamente Più personali Quindi mi faccio I cazzi miei Sperimento Illustrazione Grafica Poi in relazione a questo Ho fatto un piccolo collettivo Con altre studentesse Una ragazza Che fa l'illustratrice Di stampa artigionale Con varie tecniche Eccetera Quindi facciamo stampa Illustrazione E poi c'è un mio compagno Di corso Che ha Diciamo fondato Una fanzine Quindi una pubblicazione Editoriale indipendente Sulla scena rock Punk italiana Figo E quindi Sono lì dentro Aiuto Faccio progetti insieme Eccetera Molto figo Molto interessante Alessia tu Io in confronto Sono nulla facente Perché No ma Ricky è ingiocabile Sì No no Ricky è effettivamente Il jolly Allora Perché Lo IED mette a disposizione Dei progetti A cui Se sei interessato Puoi partecipare Non sono obbligatori Non ci sono voti Crediti Né niente Però Tutte queste cose Non so se avrei Il tempo di farle Non perché Io sia una persona Particolarmente attiva Anzi Ma perché Io Vivo allo IED Io vivo lì dentro E Non perché Mi piaccia Particolarmente La sede Ma perché Abbiamo talmente Tanti progetti Grossi Che Da un giorno All'altro Dobbiamo Lavorare Progettare Quindi Ci ritroviamo Spesso A fermarci In università Oltre le lezioni E quindi Trovare il tempo Poi Dopo che passi Tante ore Chiuse in università Magari Hai voglia di staccare Quindi Portarti a casa Il lavoro Non Non è il massimo Effettivamente Se tu vivi Un contesto universitario Molto pieno Dove tu sei sempre lì Pensi sempre I progetti Lavori Effettivamente Sempre Per forza di cose Non puoi fare Sì È difficile Comunque Fare Tutto Ci sono Persone Come me Che magari Vogliono concentrarsi Hanno solo un obiettivo E altre invece Che ne hanno mille E fanno benissimo Portarli Ovviamente Io non sono da meno Degli altri E gli altri Non strafanno Ci sono persone Ci sono percorsi diversi Esatto Allora io Sono un po' A metà Tra i due Cioè non faccio parte di Circoli Di design Però faccio dei progetti Personali Sfruttatissimo Ovviamente Cioè I mondi poi purtroppo Sono belli È così Ma poi Non Tu dici vabbè Vieni sfruttato Da uno A caso No Vengo sfruttato Da mio fratello No va bene Perché Praticamente mio fratello Collabora con varie Associazioni Vabbè In Lombardia Così E quindi Un sacco di miei progetti Sono stati tipo di Rebranding Per Queste associazioni Quindi Tutte le identità visive Di queste cose qua Oppure Un'altra cosa Che sono Obbligatorie da fare Proprio nell'OIAD Sono dei concorsi Dei farne Almeno due concorsi Tra il secondo E il terzo anno Specificatamente Quindi Un po' Sei anche Improntato A fare Qualcosina Di Extracurricolare Però Sì Nel mio Faccio anche Dei progetti In più Ecco Se posso aggiungere Secondo me È anche importante La formazione Al di fuori Dell'università Che sia andare Alle mostre Ad esempio Torino Ne è piena È forse poco pubblicizzata C'è stata adesso La settimana dell'arte Ad esempio Appena passata Quindi Andare alle mostre E andare Alla Biennale Di Venezia A Milano Per la Design Week Comunque Quelli sono Attività Che contano molto E anche i professori Ti incitano A partecipare Perché Sono fondamentali Cioè è fondamentale Vedere Quello che fa Un altro designer Per Prendere spunto Per avere Una visione Più Più aperta E vedere Anche Magari I futuri Competitor E mi aggancio Vuoi agganciarti tu Flo? Sei l'ospite Ma non lasci parlare Non è che oggi Perché sei vestito di nero Cioè Non so Sembri un po' Cani Parla me Parla me Parla Parla Questa mano Non si viene da qua Non parlo giù Finisci Finisci il tuo discorso Era più una domanda Ma anche da voi Andare al tipo Alle mostre Così obbligatorio Oppure no Cioè nel senso No È obbligatorio Solo nel caso In cui Non partecipi Ai workshop Noi abbiamo Dei workshop Che integrano Altre materie Ad esempio Il workshop Anche solo Del Portfolio Che io Ragazzi ve lo giuro Sto impazzendo C'è una parola Che io non sopporto Nella lingua italiana Che è Portfolio E oggi è stata nominata Almeno quattro volte La odio La trovo veramente È stupida Perché esiste Già la parola Portafoglio No Certo È portfoglio Perché ne esiste Una così simile Che ha un significato Completamente opposto Cioè sì Contiene qualcosa Ma è stupida C'è chi è che l'ha inventata Portfolio L'ha inventata Floran Mi sembra Floran Ma che cazzo inventi Ma che cazzo fa Dica già Io proporrei Un'altra versione Del portfoglio Vai Tipo quaderno progettuale No non è vero No però è Forse era meglio Portfolio Però la detesto La detesto Vi giuro Infatti Non ve l'ho detto Ma la prossima persona Che dirà di nuovo Portfolio Portfolio Vabbè tanto tu Sei già finito Dopo l'episodio Ok Un'ultima cosa Che mi sento di aggiungere E poi A un certo punto Succederà qualcosa In questa Mega intervista A tre Ho paura Ma no Va bene No dicevo Mi rivedo molto Nel Diciamo In tutto il discorso Della formazione Al di fuori Di quelli che sono Gli ambienti Di una scuola O comunque Di un corso Perché effettivamente La formazione Personale È quella che ti Distingue Fuori dalla tua università Fuori dal tuo corso Fuori dalla tua scuola E devi in qualche modo Riuscire Non dico a spiccare Verso gli altri Ma a differenziarti Che significa Avere un valore aggiunto Che fa dire Alle aziende Ok Lui è laureato Lui ha il diploma Lui ha fatto un percorso Ma lo scelgo Perché ha fatto anche questo Ed è fondamentale Secondo me Ribadire questa cosa Soprattutto per Dei lavori Che sono E si basano Soprattutto sulla creatività Dove effettivamente Il mercato Un po' te lo crei Sì sì Come dicono i miei professori Bisogna essere Super curiosi Bisogna andare Alla ricerca Della di ogni E tra l'altro Un parallelismo Che ho trovato interessante Con quello che fai tu È un po' come Non so Gli studenti del Dams O di cinema Che vanno al cinema E continuano ad aggiornarsi In continuazione Appunto Quindi non è un Fermarsi allo Studiare i libri O alle cose che magari Ti consigliano i professori Ma diventa proprio Una ricerca personale Quindi curiosità Quello che dicevi tu E le skill Le famose skills Che hai sul curriculum Ma in generale Come persona Che ti distinguono Sono verissime Soprattutto nell'ambito Mio e tuo Di comunicazione Che non c'entra con design Però comunque È un settore molto vasto È competitivo È molto competitivo Molto Avete delineato perfettamente Tutte le differenze Che ci sono Tra i vostri corsi Poi ovviamente Per capirle meglio Uno dovrebbe viverle Chiaramente Queste cose Per capire anche Proprio la differenza Intrinseca Nelle varie materie Che esistono Vorremmo Trasformare Questa parte Di video Quest'ultima parte Di video In una chiacchierata Tra di voi Quindi Comunque voi fate cose Abbastanza diverse Tra di loro Chi più incentrato Sul design in generale Chi più incentrato Sull'interior Quindi sul design interno Chi più incentrato Su il design E la comunicazione Sarebbe interessante Affrontare un discorso Sul design in generale Quindi il mondo del design Che alla fine Collega tutte e tre Le vostre persone Quindi vi faccio Una domanda molto Di provocazione No? Davide Sì Ah ok La domanda è Il design per voi È arte Oppure no? È solo tecnica? Arte no Poi Prima di diventare solo tecnica C'è un sacco di roba in mezzo Cioè Il design alla fine Vuol dire progettazione E tu nella progettazione Ci puoi infilare un sacco di cose Può diventare Solo funzionale Poi diciamo Nel metodo progettuale Sviluppato da Munaria Noi ci hanno insegnato quello Ma credo che In base al metodo progettuale In generale C'è tutta una parte Di ricerca Di Progettazione tecnica Quindi Analisi Di esigenze Prestazioni che deve avere Il prodotto E dopo Tutta una serie di paletti Di infrastruttura Tecnica Può sopraggiungere la creatività E allora da lì Il trovare soluzioni In modo creativo Però comunque Non sarà mai arte Perché l'arte Invece È pura espressione Il design Può fare dei riferimenti Può avvicinarsi Ci sono molti casi Al confine Di Art design Come quello che faceva Gaetano Pesce Per esempio Ron Arad Però comunque Tu li conosci tutti Verro Davi? Sì Sono casi al confine Ma Appunto Sono quasi una cosa Se L'arte E il design Nella Eccezione generale Non hanno Molto Comune Ok Sì Sono abbastanza D'accordo Perché comunque Il design È finalizzato Ad avere uno scopo L'arte invece Non che sia Affine a se stessa Ma Magari Lo scopo È di suscitare Qualche emozione Oppure no Secondo me Vanno Nella stessa Non so Possiamo definirle Come una Un binario Tipo Un binario parallelo Esatto Due linee Due linee Parallele Che Sembra che Vadano Nella stessa Direzione Però non Non si incontri Poi oddio In alcuni casi Sì Quindi ci sono forse Dei designer Che Sono quasi più Artisti Tra virgolette Però sono già Delle figure Molto particolari Molto forse fuori Dal mondo Del design Classico Per come lo conosciamo Bruno Munari Era un artista Ma allo stesso tempo Un designer E ha fatto Benissimo il lavoro Del designer Molto dal lato Tecnico Funzionale E ha fatto benissimo Il suo lavoro D'artista Alcune cose in comune Proprio l'applicazione Diversa Cioè tu Comunque sei Una persona Che sta lavorando A una richiesta Di un altro Di un cliente Appunto E quindi è molto più Siete molto più Flessibili Sulla loro idea Però poi unendo Unendo comunque Anche il vostro stile Quindi c'è un po' Una fusione Tra entrambi i mondi Esatto Infatti a volte È un po' difficile Magari Trovare l'accordo Tra l'idea Che hai tu Che magari Oggettivamente È migliore Magari esteticamente Però magari Non è coerente Con i bisogni Del cliente E con gli obiettivi Che si vogliono raggiungere Secondo me Più che i bisogni Del cliente Cioè è un Un caso Però più generale Dell'utente Perché può essere Anche un tuo progetto Verso la comunità Per esempio Lì non hai un cliente Un committente Volendo puoi fare Un po' quello che vuoi Ma lì È l'attenzione Verso chi usufruirà Del servizio Del prodotto Quello che è È un'altra Diciamo Differenza Che delinea Anche In caso di Graphic design O arte È anche il fatto Dell'attenzione Alla ripetibilità Due poster Magari possono sembrare Uguali Se penso a Tipografi O artisti Lì c'è la sottina Differenza Che se un poster È una copia unica Non potrei mai rifare l'uguale O magari un poster È pensato Per essere fatto In mille copie Tutte identiche fra loro Sono diverse le linee Di confine Fra design e arte Tutta una cosa strana Però Adesso vi faccio Una domanda A cui dovrete dare Una risposta secca Senza argomentare Voi vi sentite Più Perito Vi sentite più Operai Artisti O artigiani Puoi anche mandarla a cagare Se vuoi C'è anche questa opzione Che non ha Elencato Ci penso Un argomento Ci penso a Va bene Penso Ci penso Ci sta Vai Ale Nessuno dei tre Ok Flo? Io ho pensato artigiano Ok Ma io ero Su Nessuno dei tre Volevo capire Quello che magari Un pelino più Mi potrei sentire Personalmente Più sull'artista Perché Mi interessa anche Un sacco Di cose Più magari legate All'illustrazione Alla grafica A livello più Sperimentale Espressivo Più che magari Per un'esigenza Ma quelli sono Cioè robe che faccio io Così A livello di cosa Voglio fare Lavorativamente Forse direi artigiano Perché A me gada un sacco L'editoria Perché riesce A coniugare Un po' Il lavoro manuale Il lavoro industriale Quindi Alcune di quelle cose Che uno pensa Siano relegate Al prodotto Come in Metodo industriale Materiale Eccetera Però nell'editoria Ritorno Perché alla fine Progetti Sempre un prodotto E quindi A livello Lavorativo Forse artigiano E argomentato Argomentato È vero Non ci ho pensato Ma lo risparmierai Dopo questa Ci penso Ci penso Bello Ci rifletto E poi te lo faccio sapere Io vi faccio l'ultima domanda Poi ragazzi vi lascio andare Se siete stati bravissimi Ve lo dico già E la domanda è molto infima E infida Che in realtà riguarda Quasi tutti i lavori Che vedono Sia l'uomo Che la macchina Ed è Probabilmente Immaginavate Che sarebbe arrivata Questa domanda L'intelligenza artificiale Questa maledetta Intelligenza artificiale Secondo voi Sostituirà Completamente Il lavoro Del designer Del grafico Oppure Servirà Come Macchina Che fa il lavoro Al posto vostro Ma la testa Comunque la metterà Sempre il grafico Avrà Un ruolo Molto più importante Rispetto alla macchina Cioè l'intelligenza artificiale È uno strumento Oppure andrà A rubare Vabbè non è che devi Svilirla così No 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 È per il Ah ok Per il content Allora rifalla per il content L'intelligenza artificiale È uno strumento Che potrete usare O è lo strumento Che vi porterà via Il lavoro Alcuni lavori Magari li potete Arrivare a sostituire Come Per esempio Il grafico Comunque è diverso Dal graphic designer Dal visual designer Perché Poi molti grafici Che si definiscono Grafici Sono visual designer Però a livello di definizione Che non so Però immagino Il grafico È quello che appunto Fa la grafica E magari ha un brief Specifico di cosa Dove fare quella grafica Quindi è più Sul lato estetico Quella parte lì La può fare Un'intelligenza artificiale Come il 3D artist Può essere rifatta L'intelligenza artificiale Il fatto è che Molti 3D artist Sono fortissimi Non perché sanno Usare benissimo Un programma Ma per il loro Immaginario Il loro stile Le loro idee Quindi alla fine È uno strumento Che aiuterà a fare Un sacco di cose Ma il vero designer Che quindi progetta Pensa alle esigenze E ti fa una grafica Non perché è carina E così Ma perché Ha bisogno di soddisfare Di requisiti Dovrà comunque dare Quei requisiti Quelle prestazioni Necessarie Allo strumento Che farà la grafica Per lui Penso che L'intelligenza artificiale Non possa andare A sostituire Il nostro lavoro Perché Appunto È fondamentale Il lato umano È fondamentale Capire le esigenze Umane E soltanto Un umano Può capire Quello che è Che prova E non una macchina È come rubare Un'idea Non puoi rubare Un'idea E farla tua Perché non sarà mai tua Perché non l'hai ideata Tu Non so se mi sono spiegata Sì 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 Ti sei spiegata Ma forse questo Non cambierà anche Le regole del mercato Ovvero Ci saranno poche persone Che lavoreranno Ai progetti Quindi manterranno Quell'umanità Quell'artigianalità Della cosa Mentre il mondo industriale Che viaggia sempre Molto più velocemente Rispetto a quello culturale E del pensiero Richiederà sempre più cose Quindi La macchina Soppianterà l'uomo Anche con prodotti Che come hai appena detto tu Non hanno un cuore Vero e proprio Secondo me Ci potrebbe essere Il momento In cui magari Le persone Richiederanno Anche solo un progetto A un prezzo scontato A un prezzo minore Rispetto A un prezzo Che potrebbe farti Un progettista E quindi Allora Lì sì C'è la tentazione Di andare E Prendere un progetto Già ideato Ideato da una macchina Però Secondo me La storia Si ripete E Quindi Anche adesso C'è un ritorno All'artigianalità Artigianalità Adesso vediamo come Qualche anno fa C'era il boom Dei fast fashion E adesso invece Il made in Italy Torna E anzi Se avessi made in Italy Sei Al top Secondo me Anche nella progettazione Potrebbe essere Magari Una via Che però Comunque Tende a fallire Perché comunque Alla base C'è sempre La mente umana E appunto L'artigianalità Dell'idea E umana Quindi secondo me Potrebbe Ma Non Non dura tanto Sì sono d'accordo Secondo me L'intelligenza artificiale Non toglierà Il lavoro Del designer Ma sarà uno strumento Utile Ad esempio Velocizzerà Delle varie Parti del progetto Del concept Magari ti può dare Quello spunto Che magari Ti fa trovare Un'idea O magari Come capita spesso Magari Ti tira fuori Dei concept Di merda Ecco Possiamo dirlo Possiamo dirlo Tanto ormai Voglio dire Abbiamo detto di tutto In questo podcast Quindi possiamo Assolutamente dirlo Ragazzi vi ringraziamo Tantissimo Di essere passati Da I cicles Io purtroppo Non le cuffo Quindi non sento Se ho premuto il tasto giusto Spero di sì Assolutamente Vi ringraziamo Siete stati Preziosissimi Perché avete regalato Comunque Ci avete regalato A tutti noi Anche chi ci sta ascoltando Delle informazioni Che altrimenti Non avremmo potuto conoscere Piccola cosa Wait Wait Tu non lo sai Tu non lo sai Ma In questa stanza Ci sono due persone Che hanno lavorato Al nostro logo E vorremmo Che insomma Venissero qua vicino a noi Così almeno Allora Una in realtà Che è abbastanza Poco Poco sospetta E in realtà L'altra Ce l'abbiamo avuta Davanti E Flo Un grande E l'altro Che ha fatto fino adesso La regia Quindi insomma È stato prezioso Anche per altri motivi Attenzione ragazzi Il più potente sulla terra Buonasera Mi chiamo Monsef Sono anche io Uno studente Del Politecnico Al primo anno Di design e comunicazione E ho aiutato Questi ragazzi Assieme a Flo A fare il logo Per questo Incredibile Podcast Ragazzi Complimenti Continuiamo così Grazie E tu tra l'altro Fai la stessa scuola Di Riccardo Sì 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 Anche io Iscritto al primo anno Vediamo come va Vediamo come va Ragazzi Vi salutiamo Ci vediamo A un prossimo video Ciao Ricordatevi Di iscrivervi Di lasciare like Tu Devi stare un po' zitto Adesso saluto tutti quanti Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video